Tutto pronto per la dodicesima edizione della Notte Rosa. La riviera ha tutti i numeri per confermarsi ancora una volta l'autentico capodanno dell'estate italiana. Lungo 130 km tra Comacchio e Pesaro. Together è il claim di quest'anno. Un messaggio di pace e unione spiegano uno stare insieme a dispetto della paura che dilaga nel mondo e un unire le forze reso concreto non soltanto dal terzo anno consecutivo di coinvolgimento del territorio della costa nord delle Marche e dalle tante sinergie pubblico-privato. Solo un evento è un prodotto turistico ma è anche questa fase storica e politica particolare è anche un grande messaggio di carattere sociale che noi vogliamo lanciare ai nostri visitatori nazionali e internazionali. Venite nella nostra riviera, venite nella nostra costa, venite in Romagna perché siamo la terra dell'ospitalità, la terra del sorriso. Vi accoglieremo con un grande abbraccio collettivo, tutti quanti insieme, together. In un periodo storico in cui si alzano muri noi vogliamo aprirci al mondo, vogliamo aprirci ovviamente ai tanti turisti che decideranno ancora una volta di sceglierci come meta preferita delle loro vacanze. Tanti gli eventi in programma tra Bellare Gemarina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica, Gabicemare, Pesolo, Gradare e Zavuglio. Tra i protagonisti di questa edizione Elite FIBA, Flavio Voltro e Danilo Rea, DADG, Radio DJ con dei giornalisti, Oghi, Ipanema, Silvia Mezzanotte, The Colors, Teresa De Sio. La notte rosa è un prodotto economico, è un prodotto turistico che crea economia e lavoro. Lo crea con la forza dei suoi imprenditori, della sua gente. Si stima circa per ogni notte rosa un indotto tra i 180 e i 200 milioni di euro, oltre al valore aggiunto di comunicazione che porta. Together è un messaggio in controtendenza. Quando tutti diffidano del vicino di casa o di chi arriva e quando tutti magari possono avere paura di uscire di casa, noi diciamo Together. Rimini è la locomotiva di questa Romagna, una Romagna che ha il coraggio di andare nel mondo. Vorrei sottolineare che noi arriviamo nel cuore del capodanno dell'estate, la notte rosa è un capodanno dell'estate, dopo aver già spalancato le porte agli altri. Penso a Rimini Wellness che all'inizio di giugno ha fatto 300 mila persone, penso ai cuochi con bottura, almeni, le mani con 80-90 mila persone, penso alla Molo Street Parade, 200 mila persone di G7 Sardoncino e penso ancora alla grande notte di Vasco in collegamento con Modena che ha fatto sorgere un'alba chiara con Gaetano Curreri. Lo abbiamo fatto con l'organizzazione, con la sicurezza, con fatica e impegno.